Imprese e sviluppo bene per le imprese, male per l'artigianato. Il CNA tira le somme del 2016 e fa i conti in tasca al futuro dei settori. Intanto le prospettive puntano soprattutto sui giovani e sulla loro voglia di investire su loro stessi. I dati dell'artigianato del 2016 sono dei dati preoccupanti perché in provincia di Siracusa a fronte di un miglioramento delle condizioni generali delle imprese che segnano un saldo di più di 350 imprese, quindi un saldo attivo tra le scritte e le cessate, l'artigianato è a meno 130-134. Ed è un dato che è fortemente legato ai comparti del manifatturiero e delle costruzioni, quindi dell'edilizia. Unico elemento positivo è l'agroalimentare e i servizi legati al settore della ricettività sui quali probabilmente occorre puntare in questa fase. Per tutto il resto sul manifatturiero e le costruzioni è fondamentale una ripresa dei lavori edili, sia pubblici che privati. Abbiamo fatto numerose proposte, anche normative in tal senso. Sul manifatturiero bisogna puntare molto sulla qualificazione anche dei giovani nelle scuole perché è da lì che probabilmente riparte anche un senso vero della produzione di un territorio che adesso è evocato. Grazie a tutti.